amici di bravi ancora questi sono i nostri hamburger e vabbè bene ho parlato tante volte li conoscete e invece guardate un po questi sono dei mini hamburger sono sempre ovviamente hamburger di marimma però volevamo lanciare anche questa confezione questa proposta 6 mini hamburger che ne pensate allora noi oggi vedete questo ha il nostro packaging super fico super yeh e guardate una cosa di cui vado molto fiero vi volevo far vedere questa indicazione voi siete perciò ancora fate la vostra parte riciclata e mi raccomando questo ve lo dirò sempre allora mentre invece questo package ragazzi ovviamente è neutro perché stiamo facendo delle prove oggi ce li assaggiamo ce li grilliamo vediamo un po come sono non mi andava sono sincero di accendere la griglia perché abbiamo deciso questo pranzo al volo e quindi utilizziamo questo fornello da campeggio che io ho rimediato ora apriamo i nostri hamburgerini poi immaginate qua ci sarà una confezione di carta con il nostro logo abbracciami ancora ci dobbiamo organizzare al meglio allora accendiamo questo nostro fornello da campeggio io ho rimediato 1 2 va benissimo ok due minuti e sono pronti ragazzi sono pronti Giorgio questo era tuo e questi erano due erano i tuoi giovane fanno in braccia mi ancora passiamo il piatto piccolino è più piccolo di questo non c'è ok aiutati una me una bionda misteriosa e un altro a chi se lo merita beh iniziamo con la forchetta a me ah giusto la pietta a te scusa serve il sale qua il sale senti eh serve mi ha dato pure stavolta ragazzi con il sale è tutta un'altra cosa secondo me è più buono senza sale io ne ho mangiato uno non ho mangiato due lui ne ha mangiati due tu quanti ne hai mangiati e l'altro ti è andato a finire chi si è fregato ma che il cane si è mangiato si è fregato ma che Darwin si è fregato un hamburger Giorgio gli hai dato un hamburger al cane gli hai dato un hamburger al cane ho dato un pezzo meno oh è sparito un hamburger chi cavolo se l'hai preso già l'hai preso te Giorgio l'hai preso te e gli indizi principali sono su quello la lo vedete è lui erano sei mi sono distratto un attimo è sparito un hamburger ma io non ho mangiato uno questo ancora cerca ma che cacchio non ha finito ma andatevelo a pianderzecchio va hai mangiato te si eh abbiamo scoperto eccola giovane fan di Bracciami ancora quale preferisci quelli piccoli o quelli grandi di hamburger piccoli quelli piccoli tu Giorgio ma stesso hamburger non mi piacciono va bene però mi piace pure la Fiorentina amici di Bracciami ancora qui la Giulia Popolare si è espressa e ha votato all'unanimità per provare a mettere sul mercato anche i mini burger di Bracciami ancora ovviamente di carne e mare in mana anzi aspettate anche Darwin è d'accordo ragazzi bene grazie a presto e che la Bracci sia con voi devi dire una cosa cosa amici di Bracciami ancora siamo qui tornati in questa grigliata dove cuociamo questi hamburger piccolini di Bracciami ancora sono sei e dovete vedere da dove vengono e da dove vengono e non so cosa dice mio padre ascoltate lui e ciao e mortacci quanto è buono ciao a tutti grazie 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 a tutti